Il dolore va via ed ecco che viene investito dalla voglia di suonare. Non puoi farlo. E quindi un dolore cento volte più forte ti prende al cuore. Ed è lo stesso dolore che prende con sé la mente e se la porta via. Dio cosa darei per poter sentire le vibrazioni di quelle corde, di quello strumento che parte di me. Non chiedo altro, solo un paio di note, suonate dolcemente, così, accarezzando con le dita. Grazie a tutti.